Martina Guigi, più stanca o felice? Tutti e due, sia stanca che felice, sicuramente felice perché oggi è stata una partita durissima, non l'abbiamo mai mollato fino alla fine, quindi credo che sia stata anche molto bella da vedere, siamo rimasti lì nonostante le difficoltà, alla fine l'abbiamo scampata. Qualche parola, è stata davvero infinita, due o tre palle match anche annullate da te, ci hai sempre creduto o a un certo punto hai detto non ce la facciamo? Sì, diciamo che nonostante le difficoltà in cui loro ti mettono, perché hanno una difesa stratosferica, anche quando pensi di aver fatto punto lo prendono di piede, di testa, cioè la palla non cade mai, quindi ti portano anche un po' a essere, dopo un po' a perdere la pazienza, invece siamo state brave a tenerla, a crederci, a rimanere lì perché la volevamo vincere. Hai visto tante di partite, una così, te la ricordi? Beh, diciamo che col Giappone storicamente spesso è così, con le squadre asiatiche ti fanno penare l'inferno in difesa, però così lunga e tirata appunto su punto veramente dà un po' di tempo. Adesso ci si gioca il podio? Sì, adesso diciamo che è tutto un po' aperto, domani sarà decisiva, sicuramente col Brasile è difficile, però abbiamo dimostrato oggi che credendoci si può arrivare con tutti e provarci con tutti.